Dal 2018, quindi settembre 2018, abbiamo iniziato con Ghize, che è un produttore tedesco di cartine di altissima qualità a livello mondiale. È un bellissimo progetto, secondo me, molto molto bello, sfidante, perché all'inizio non è stato semplice. Perché ci dovevamo conoscere. Però diciamo che adesso c'è una totale fiducia verso tutto il gruppo di lavoro. Inizio 2020 abbiamo iniziato la rivoluzione, a noi piace chiamarla rivoluzione, perché abbiamo stravolto completamente sia l'assortimento dei prodotti che poi anche il modo di comunicare verso il consumatore finale, verso il tabaccaio. Da piccolino a piccolino sta diventando sempre più importante nel panorama. Ha scelto la ITA proprio per i risultati che ha portato in altri brand. E questo, secondo me, è uno dei punti di forza di ITA, sicuramente.